Puerto Rico, Puerto Rico, lo so i draghi, come il cochi, come il cochi. Allora, eccoci amici di nuovo qua nel mio piccolo studio qui di casa mia, con la mia strumentazione. C'è anche un bellissimo basso, questo è stato il mio secondo basso, che ho cominciato anche come bassista prima di dedicarmi professionalmente a pianoforte. La chitarra ha una grande passione. E adesso praticamente continuiamo a spiegare un po' i passi caratteristici della sequenza di Patito Alà, la grande maestro portoricano, purtroppo scomparso nel 2000, anche se ha lasciato una grande impronta, una grande eredità che in qualche maniera cerchiamo di mantenere in vita. Un altro passo caratteristico della sua sequenza si chiama Crusado al Frente, che è una variante del Crusado al Lado. Così come succede nel Crusado al Lado, anche lì abbiamo un passaggio dal 2 al tempo forte all'1. Ma mentre prima avevamo questo movimento un po' molleggiato, che andava di lato in lato, nel Crusado al Frente invece c'è proprio un accento, uno spostamento di corpo, che lo facciamo frontale. Quindi dal basico con impulso carico e qui cado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'uscita è come il Crusado al Lado, ovvero sempre con il tallone, si cambetto, spalle e torno. Quindi come vedete, al di là del fatto che questo lo facciamo frontale e non lo facciamo di lato, la cosa interessante è proprio questo movimento qui, vedi, come se io volessi prendere qualche cosa, lo tiro con il gomito, e nel frattempo c'è questo pliegamento del corpo da un lato all'altro. Vedi, nel Crusado al Lado c'era più un molleggio, ma senza questo, diciamo, dondolamento del corpo. Quindi, eseghiamolo un attimino, sempre accompagnandoci con del congas immaginale. Parto, carico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e pan, 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 pan. E lo rifaccio, cruzando al frente. Con la bassinetta, cruzando al frente. Carico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, pan, 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 pan. Usando a frente, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.